Io sono molto legata all'Italia perché lì ci abita mia madre e anche mia sorella e per questo lì ci vado spesso e anche volentieri. Però mi ricordo la prima volta quando sono stata in Italia, ancora non parlavo tanto italiano, non capivo tanto della cultura italiana e magari era anche la prima volta quando sono andata all'estero. Siamo andate tutte e tre in un bar dove abbiamo chiesto tre caffè e in un certo punto ci hanno portato tre caffè, tre tazzine così piccoline che io pensavo che questa era una tazzina della bambola e pensavo che era un scherzo del barista o del cameriere, però niente, non è successo niente e allora ho preso e ho bevuto un sorso, un sorso perché era soltanto un sorso. Però in questo momento ho capito che il migliore caffè te lo fanno soltanto in Italia.